Ehi Ferenichil, sai che ha fatto un corso online per diventare un fabbro? Ma è fantastico, è già fatto qualcosa! Sì, guarda che bella! Guardi, io sinceramente sono indeciso se venderglielo perché... Che fa? Ma come si... Venga qui, venga qui! Non gli avevo dato il permesso, dovevamo contrattare sull'offerta! Ehi ragazzi, come va? Io sono Ferenichil E io sono Stef, che stai giochiamo? My Little Blacksmith Shop Eeeh, ce l'hai fatto a dirlo, pensavo te ne dimenticassi la metà Ti dico la verità, ti faccio i complimenti Comunque, come da nome, ovviamente oggi dovremo vestire i panni di un fabbro Per gestire totalmente il nostro negozio e quindi vendere le armi che creeremo ai nostri clienti Esattamente, praticamente siamo in un mondo fantasy dove ci sono tanti valorosi guerrieri E noi dobbiamo procurarle delle spade Salve, vuole un'arma? A lei serve uno scudo migliore, questo mi sembra delicato Guarda, questo è di legno, fa schifo Sembra Eh, appunto, te lo potresti mangiare, invece noi gliene faremo uno perfetto Si fidi anche lei Non le interessa neanche a lui Buon, invece, abbiamo da dare il nome al nostro negozio Io pensavo, dato che siamo dei fabbri, a Fabrino, scritto così, ok? Ok Eeeh, e poi vorrei una rima con Fabrino Quindi sto pensando un attimino se mi viene in mente qualcosa C'è qualche idea? No, per niente, non mi viene in mente nulla Già è terribile Fabrino Allora Eeeh, Fabrino, spadino, carino Ti piace? È terribile Poi mettiamo size a 14 Perfetto, guarda Wow Secondo me Cioè, capisci subito Secondo me non verrà nessuno Zero clienti per sempre Diventeremo poveri e dovremo chiudere il nostro negozio al day one Hai un insegna Si capisce che sei un fabbro Che fai spade E che sei carino Meglio di così Un sacco di informazioni Non ne ho solo insegna Però io mi sono appunto guardato il corso online per diventare fabbro Quindi adesso ti spiego come funziona Lo smetti oggi Il nostro lavoro Non lo smetti Guarda che ho pure il certificato Lo vuoi vedere? Si, adesso lo voglio vedere Aspetta Allora Un attimo Guarda Oh no, mi ha chiamato mia madre Aspetta Allora, questo è il corso che io ho seguito Allora, come vedete C'è tutta la spiegazione Ci sono tutti i passaggi Illustrati Uno ad uno Tutti illustrati con le immagini come piacciono a Steph Perché tutto scritto non mi piace E infatti vedete Guardate tutte le immaginette Bisogna bruciare Appunto sistemare E quindi Steph Si è guardato tutta questa bellissima guida In questo momento mi sto vergognando di fare questo video con te Cioè te lo dico giusto per Per essere sincera Non te lo vorrei nascondere Allora Ma mi sto vergognando Nel curriculum adesso ho messo Letto guida di come fare il fabbro In otto passaggi illustrati In otto passaggi illustrati Perché quello tutto scritto mi annoia Lo lasciamo anche i consolini Perché non si sa mai Che anche loro vogliono diventare dei fabbri Non si sa mai nella vita Non si sa mai Esatto Magari decidi di voler diventare un fabbro Fammi spiegare il mio lavoro Ok Che qua bisogna fare le cose serie Praticamente Qua abbiamo i nostri bellissimi lingotti Dovresti prendere i lingotti Ok Che ovviamente al momento sono di bronzo Esatto Perché non è che siamo così ricchi È il materiale più brutto Però per ora siamo poveri È per iniziare Ma tanto appena mettiamo le mani con Steph Diventiamo ricchi Mettiamo questi qui Ovviamente li modelliamo con il fuoco Quando sono pronti Li mettiamo in acqua per farli raffreddare E poi si appoggiano qui nella forgia E finisci di modellarli Di lavorarli bene Ok 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 E così crei la lama Ma qua invece abbiamo tutti i vari manici Uh belli questi Questo per le poliarme Questo per le armi a una mano E questo per le armi a due mani A due mani Infatti ho visto anche qua il progetto Che spiega tutto come fanno Brava Perché vedi alcuni hanno i manici Alcuni no Alcuni hanno la lama più grossa Sembra la spiegazione per degli ovetti kinder Per creare giocattoli Identico Identico Però in questo caso sono delle armi Invece qua perché ti chiederai Che serve questa porta Giustamente Domanda di Ferenichi Quando possiamo fare gli ordini per altri materiali Quindi quando finisci i lingotti E manici Tutto quello che ti può servire per creare qualcosa Tu vai qui Tipo fai Oh mi serve un po' di copper Pa 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 Te lo ordini Arriva Capito? Perfetto Perfetto Molto bello Molto ben gestito Perfettissimo Iniziamo? Quindi ho visto che il negozio è chiuso Apriamolo Esatto Adesso venga Salve venga Mi sta guardando Venga 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 Allora le posso offrire delle spade Dei martelli Delle spade a due mani Anche un bel pugnale Dei pugnali Degli scudi Tante cose No No C'è ignorato Totalmente Totalmente Pada il diavolo Lei mi sembra intenzionato Venga venga Salve il primo cliente Che bello Benvenuto Vorrebbe un great hammer Quindi il martello a due mani Dovrebbe essere Giusto? Aspetta Riguardiamo il nostro schimino Il great hammer Dovrebbe essere questo qua Che vi sto indicando Ok Quindi teoricamente Con questo bastone Quanti lingotti ci servono? Esatto Qui abbiamo la spiegazione Allora Great hammer Tre lingotti Tre lingotti Ok Allora Ne mettiamo subito Uno Poi Due Poi Tre E accendiamo il fuoco Guardate che bello Subito tantissimi lingotti Ok dobbiamo aspettare Che siano pronti Giusto? Esatto Perché vedo non pronto Not ready Quindi non pronto Appena dice pronto Li mettiamo nell'acqua Perfetto Uno Prontissimi Allora Aspetta Uno Due E opla Tre Ok A questo punto Li mettiamo nella forgia E creiamo il nostro bellissimo martello Poi mettiamo il manico È davvero figo E sarà pronto Sembra un sole Sì Non vedo più nulla Quando li guardo Mi fanno male gli occhi Scusi Guardi che materiale pregiato Guarda che lo bruci Non puoi bruciare il nostro primo cliente Le piace? È di ottima qualità Questo è bronzo Di ottima qualità Lei non l'ha mai visto così Forgiato dai nani Sì Della montagna Da Steph No Da Steph Allora Vai Senti che bel suono poi Sì Capito? È perfetto Opla E tu direi Ma questa è una spada Non è un martello Giustamente sì È una spada La riappoggi qua E la modelli No vabbè Puoi vedere cosa tutto c'è? In questo caso Solo questi due Ah beh sì In effetti Perché era solo quello da tre Hai rovinato il momento enfasi Ma no Volevo vedere Hai fatto vedere i consolini Che ce ne sono solo due Ma perché abbiamo usato i tre lingotti Negli altri ce ne sono di più Se ne usi due Certo certo Quindi questo È solo il manico Mi sembra Giusto Vedi che non ha il grip Lo chiama grip Che bello che è Allora Guardi È fantastico Io sinceramente sono indeciso Se venderglielo Perché Che fa? Ma come si Venga qui Venga qui Non gli avevo dato il permesso Dovevamo contrattare Sull'operta Sigiri Sigiri con il suo martello Disgraziato Era indeciso Se darglielo un manetto L'ha preso con la forza Questo è un furto a pagamento Cioè Nel senso che Me l'ha rubato Ma comunque mi ha pagato Quella sta entrando E ci sta guardando malissimo Non so perché Scusi Perché ci sta guardando così male È un po' sospetta Cosa vorrebbe Una great sword Eh ok Ma quanto ci ha pagato 61 Avevamo 11 Quindi 50 Giusto Fammi vedere il resoconto 50 Ok Ok Benissimo Mica male 50 Scusa Cosa è successo Secondo te Era una strega Secondo me Non c'è altra spiegazione Ci ha ammaliato Non abbiamo più capito nulla Il tempo di controllare Quanto abbiamo guadagnato Che è scomparsa Non è possibile Vabbè Allora Ho notato una cosa Si sta facendo notte Esatto Pensi che dovremmo anche riposare Secondo me sì Perché ho visto che c'è l'appartamento sopra Vedi Sì 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 Guarda Vedi Ok Guarda che belli che siamo Siamo invisibili Ti piace? Ecco perché è scappata quella tifa Che siamo invisibili Siamo belli Ok Dormiamo un pochettino Nanniamo un po' Venga sì 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 Lì ha bisogno di un'arma Guarda Indovino subito Un pugnale No No Di nuovo Di nuovo Anche poi lo stesso Della volta scorsa L'ha già rotto dici? Secondo me è sempre lui Scusi? Non vorrei dire fesserie Ma secondo me è sempre lui Ma ha già rotto il nostro bellissimo martello? Mi guardi bene Mi guardi negli occhi Allora Ascoltami un attimo Sì Mettila di importunarlo Perché io ho paura che scappi Come la signorina Come la strega Di ieri Capito? Ma quello aveva poteri magici È scomparso troppo in fretta Allora questo è pronto Lo mettiamo in acqua Mettiamo in acqua Non vedo nulla Dannato sole Dai veloce Finici Finici Andata Che bello Allora Tacchete Tacchete E abbiamo il nostro martello Il problema Che non abbiamo più manici Che non abbiamo manici Quindi noi dobbiamo andare qua Andare su grips E prendere il Two hand grips Ma sei sicuro che non sia il manico? Il grip è il manico Il discorso è che cosa è il fancy? Non lo so Forse sono di qualità più pregiata Capito? Quindi Ordina quelli base Che secondo me siamo È già arrivato È meglio di Amazon Sì Velocissimo Meglio del prime Tacchete Tenga questo martello Vada Tenga Bravo Le piace? 108 Bene 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 Ok andiamo a vedere cosa possiamo prendere Esatto 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 Allora torniamo indietro da qui Lingotti Vedi c'è Tin Che dovrebbe essere Tin Iron Steel Dai ho giocato a World of Warcraft per nulla Il Tinor Che cos'era? Boh non mi ricordo Comunque Iron Ferro Steel Acciaio E Mithril E non mi viene Allora quanto costa il Tin? No No Cioè allora Facciamo una cosa Sì Evitiamo di sognare troppo in alto Facciamo andare i nostri affari Quando andranno meglio poi Capito Ma non andranno mai meglio Se noi non vendiamo materiali migliori Eh ma ti devi muovere Se tu sei veloce Fai ordini Capito? Ah dici Eh esatto Se la giochiamo sulla velocità Invece che sulla qualità Esatto esatto Quindi non saranno dei Dei metalli più pregiati del mondo Però almeno se siamo veloci Riusciamo a fare un po' di ordine al giorno Secondo me ce la possiamo fare E allora ne ordino altri tre Per 30 dollari Eccoli qua Veloce Ok così ce li teniamo già pronti Questi sono pronti Mettiamo in acqua E cosa ci ha chiesto lui? Non me lo ricordo più neanche io Una great sword Ok che bello Finalmente facciamo anche la great sword E quindi ci riserve un manico da due mani Aspetta un attimo Allora la great sword è la penultima Quindi ha bisogno anche di quella cosa in mezzo L'hai visto? Sì Che dovrebbe essere il two hand Dato che la spada appunto ha due mani Che va attaccato tipo così Ok andato 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 Ok a questo punto Adesso come l'attacchiamo quella lama gigante? Tipo oh no Ce la stavi perfetta No 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 Dannazione Un attimo scusi Errori che possono capitare Staccali Ok Perfetto Attaccati Attaccati E dai su Attaccati Dannazione Cioè si è attaccato nell'altro e non incontri Esatto mi sta facendo arrabbiare Dai Andata No ma dai Ma perché in tutti meno che quello? Dobbiamo tenere il tavolo da lavoro un po' più ordinato secondo me Esatto Prima che Steph perde la pazienza e spacchi tutto Arrivederci Non ce l'abbiamo fatta Mi spiace Non ci credo Ascolta provo unirla scusami Cioè dobbiamo capirlo come funziona Non possiamo fare così Guarda Vedi Non le piace C'è qualcosa che non le piace Buongiorno Buongiorno Poliarm Una poliarm Ok Quindi dovrebbe essere abbastanza semplice Dovrebbe essere la spada corta giusto? Sì Quindi un solo Un solo di bronzo Venga Venga Ok un solo lingotto È dato C'hai fatta prenderla Non lo so è scomparso Ah ok eccolo Allora la lama dovrebbe essere questa Proviamoci Però prima devo spostare tutta questa roba Che sta facendo i disastri Allora buttiamo Per terra Ma non in terra Dove si spostano? Come fanno i fabbri più esperti Non credo Cosa è successo? Guarda un attimo Cioè si è portato Ti è portato via il bastone senza la lama Ha pensato che fosse Una poliarm corretta Siamo talmente esperti Che riusciamo a far passare Un semplice bastone Per una poliarm Bravissimi 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 Guarda cosa ci sta richiedendo Oh cavolo Mettiamo Questo qui Secondo me non va bene Ma che bug è? Ma basta Ma non è possibile Ragazzi ma Cioè tu gli dai i manici E questi pensano che sia un'arma completa Ma è easy Così compriamo solo manici Cioè è una figata Allora Comunque abbiamo anche dei punti Visto che siamo saliti di livello Non ne sapevo nulla In cosa? In strength Non so cosa ci possa servire la strength Forse siamo più veloci a costruire Perché in effetti è molto lento Quando batte il martello Può essere Packete Ok Pensavo non ci fosse Anche io gara Ormai mi sto abituando Cioè gli vuoi ridare il bastone? Sì A vedere se funziona? Vediamo Buongiorno ecco lei Ma cosa sta succedendo? Me lo spieghi tu Perché io non ci arrivo Cos'è andato? Appena ci ha visto Ha detto no no Lui sicuramente ha pensato No stanno cercando di Implogliarmi Ma che ci sono dei guerrieri Dilettanti Che non sanno neanche come è fatta l'arma Invece dei dilettanti Esperti Cioè Dei guerrieri esperti Che invece capiscono Dilettanti esperti A prima d'occhio Molto probabile Quindi abbiamo truffato due persone Che tristezza Però senza volerlo Perché c'è stato A parte che ce l'hanno strappato dalle mani Io non voglio dire Esatto Tu ce l'avevi nelle mani Lì pronto per fare l'arma La Great Sword Ce l'ha pagata una miseria Quindi sinceramente Perché non c'era la lama Non mi sento neanche in colpa Perché non c'era la lama Cioè vale di più di solito questa Eh allora se ne è accorto Magari serviva solo il bastone Non lo so Per andare a passeggio Magari doveva cambiare il bastone Alla sua O minacciare Facendo finta di avere un'arma Perché non aveva i soldi Per l'arma intera Non possiamo saperlo Non lo possiamo sapere Tante teorie Tante cose interessanti Ed è una nuova giornata Per Fabrino Il creatore di Spadino Carino Carino Lei vuole una poliarm Ecco a lei Tenga 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 Questa è una poliarm È molto pregiata No non ci casca Tenga dai Non ci casca No Manca qualcosa Ma davvero Non me ne ero accorto Hai ragione Manca la lama Mi scusi Torno subito Vedi sei un po' sbadato oggi Eh sì Vedi vedi Ogni tanto può capitare Allora Da questa Non mi ricordo mai Da questa Allora Attaccate Ok Andata Andata Tenga Guarda che bella Ok l'ha presa Per un momento Credo che non la prendesse Ho avuto davvero paura Direi di fermarci così ragazzi Per questo video Dai è stato davvero carinissimo Ovviamente Un singolo episodio Era giusto per provarlo Uno di quei giochini Corti corti Molto simpatici Ovviamente si potrebbe andare avanti Ma non ha molto altro gioco Era giusto Per fare una giornata da fabbri Capito Perché ogni giorno Magari tu ti svegli E dici Oggi voglio fare il fabbro Domani voglio essere un cantante Poi un ballerino Non si sa mai nella vita Esattamente E almeno abbiamo provato La nostra giornata da fabbro L'abbiamo passata Sinceramente non mi piace molto Perché tu gli dai I metalli migliori E loro non ti pagano Sono incontentabili poi Capito Cioè è molto complicato Hanno i capelli verdi Con le codette Non mi piace Non mi piace Bene che se vi piace Cos'è si è piaciuto Ascettaci un bel like E se la prima volta Che avete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao Ciao